ciao ragazzi veramente in questo nuovissimo video di 6200 allora stai dicendo giovanni ma dove sei qui tu inizi sempre con questo allora ragazzi ho messato praticamente praticamente wow stavo dicendo praticamente stavo costruendo la casa e non l'ho dimenticato che dovevo filmare e qua mi sono dimenticato e stavo costruendo qua quindi se il video è corto è ragazza niente io faccio quei video di tipo lunghissimi cioè quindi un poco è quindi sistemo un po' ok qua tutto abbina ho finito va bene ora andiamo a prendere il legno e poi chiude il video per forza perché non posso sarei difficile perché sì certo perché si prendiamo il legno un po' così più buono qua c'è più buono perché io parlo se voi volete dire io parlo a casa in cui ci stanno le pecore eccetera eccetera perché così mi potrò fare i mangiare gratis eccetera eccetera allora senti però ok siamo qua allora che la casa è fonda perché posso mettere tutte le mie cose dentro allora mettiamo tutto il materiale per fare la casa penso sia questo pronto l'avevo da casa in cui siamo qua ok 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 così così è una puga, sicuramente ha altro materiale poi questo qui qua, ok questo ecco il cavallo oh il cavallo bello 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 Grazie. Ok ragazzi, oh mio dio, forse se non ho parlato scusate perchè stavo un po' in centrale. Ok, raga, che vi posso dire? Vi devo rifiudere e farò il quinto video sicuramente quando ci sarà la casa. Ciao ciao! Ciao!